Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio, ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, open omnia versione giapponese. Oggi video abbastanza breve, dato che comunque ho già fatto praticamente tutto quello che c'era da fare all'interno dell'evento di GAU, usciranno ovviamente i video durante la giornata, per cui state tranquilli. Vi posso fare vedere che ovviamente ho già chiuso praticamente tutto, cioè ho fatto sia la Cosmos che la Chaos, devo dire abbastanza semplici se ovviamente avete i personaggi giusti. Ovviamente vedrete nei vari video i team che ho utilizzato, anche se in realtà ho utilizzato un solo team, che è quello che comunque vedete qua a schermo, quindi Ignis, Artemisia e successivamente Wall, team che mi ha dato grandissime soddisfazioni, ovviamente Ignis penso essere MVP, anche se in realtà il grosso, tra virgolette, del lavoro lo fa Artemisia, perché comunque fa tanti danni, free turn, quindi ci permette comunque di essere molto incisivi, molto aggressivi, senza perdere troppi turni, ma comunque lo vedrete ovviamente in, lo vedrete sicuramente sul canale a breve. Analizziamo quello che sta succedendo. Allora, abbiamo diverse notizie che riguardano tutto ciò che è presente all'interno del gioco. La prima, una tra le prime, è ovviamente un'altra tra virgolette settimana di sconti per quanto riguarda le gemme, dove come negli scorsi pacchetti che abbiamo visto precedentemente, si ha una dose comunque massiccia di Armor Token, che ovviamente sono inclusi con i vari pacchetti. Successivamente è stato reinserito all'interno dello shop anche il costume di terra, dato che per l'appunto nell'evento questo qua di Gao è stata reintrodotta anche la nuova versione della X di terra, che ho visto, non ho fatto nessuna reaction, perché ovviamente sapete benissimo che questi tipi di trailer escono alle 4-5 del mattino e sinceramente registrare alle 4-5 del mattino non è una gran cosa. Posso semplicemente dirvi che terra è diventata un po' più aggressiva, guadagna dei bonus meteoriti, se così si possono dire, sia nell'attacco Brave che nell'attacco HP. Se magari durante qualche live o in generale se dovessi comunque capire meglio anche il funzionamento non tarderò a farvi vedere qualche video a riguardo. Però una reaction mi sembrava troppo ormai persa nel vuoto, dato che non posso effettivamente fare una reaction bella a caldo, ma ho già metabolizzato quello che effettivamente fa terra. Evento di Gao? Penso che non ci sia da dire nulla, sappiamo benissimo ormai come si svolgono gli eventi all'interno del gioco. Personaggio nuovo, introdotto, con la sua relativa arma EX Plus. Abbiamo già visto il trailer, abbiamo già visto cose in grado di fare, adesso bisognerebbe vedere se effettivamente vale la pena pullarlo oppure no. Al solito dall'evento otteniamo una 15 CP, due armature 35 CP e sullo sfondo, come potete vedere, c'è praticamente il trio di dinosauri che rappresenterebbe il boss che per l'appunto identifica questo evento, sia nelle stage EX e Cosmos, ma soprattutto nella stage Chaos. Una stage, diciamo, un livello, nel senso un evento di per sé, abbastanza liscio per me, ripeto, però per chi magari ha qualche lacuna, qualche personaggio in meno, potrebbe effettivamente dimostrarsi abbastanza ostico, perché la Chaos, in questo caso, presenta tre wave. La prima wave con un dinosauro solo, la seconda wave con due e la terza wave addirittura con tre dinosauri. Quindi state attenti ovviamente al team che volete utilizzare, cercate di essere aggressivi quanto giusto, però senza esagerare. Un altro consiglio che vi do è quello di ucciderli, praticamente tutti quanti insieme, quindi cercate di abbatterli insieme e non singolarmente, perché ogni qualvolta uno di questi dinosauri dovesse finire al tappeto, l'altro, quello che è insieme a lui nella wave, acquisisce un bonus di difesa veramente eccezionale, che praticamente vi costringerà, in qualsiasi attacco, a levare un solo danno di Brave, quindi a complicare tantissimo le cose. Andiamo a vedere il banner, banner che è uscito questa mattina insieme all'evento, Selfie come terzo personaggio sinergico, abbiamo Rinoa anche, che ovviamente sarà molto comoda per me, dato che comunque ce l'ho completa poter farmare artefatti, che è sempre sinergica, e poi Terra con l'introduzione dell'X Plus e Gao al solito con l'introduzione dell'X Plus. Che cosa facciamo in questo video? Ovviamente l'avrete letto sicuramente dal titolo, ci andiamo a tirare i ticket che ho appunto farmato durante questo evento. Gao personalmente non è un personaggio che sto cercando, ho già comunque trovato Irvine, ho già trovato anche Eith, quindi sono assolutamente pieno di personaggi per i prossimi eventi, ho preso pure Ignis con un grandissimo sforzo, quindi diciamo che qui più che altro sto cercando l'X di Terra. Terra è un personaggio che ho già completo, quindi tecnicamente mi manca soltanto l'X, se dovessi riuscire a trovarla poi effettivamente dovrò valutare se maxarla oppure no, ma intanto il mio obiettivo è quello appunto di trovarla. Se dovessi fortunatamente riuscire a trovarla poi gli altri ticket li butterò probabilmente su Irvine cercando di ottenere qualche copia delle sue armi dato che ho la X ma non ho praticamente né 15 né 35 e se potessi evitare di spendere i Red Token sarebbe una cosa abbastanza gradita. Come potete vedere al momento ho 38 ticket che sarebbero i ticket di base che si farmano durante l'evento, quindi completando tutte le varie stage, completando la prima multiplayer con tutti gli obiettivi, completando la Cosmos con tutti gli obiettivi e la Chaos con tutti gli obiettivi. Mi mancano da formare ancora i biglietti della multiplayer che molto probabilmente registrerò dopo aver tirato questi, quindi andrò a formarmi le multiplayer con calma e poi quando avrò farmato tutti i punti necessari farò una seconda parte che unirò a questa per poi fare un unico video dove pullo tutti i ticket di questo evento e vediamo un pochino che cosa succede. Detto questo penso non ci sia altro da aggiungere, penso non ci sia altro da dire, quindi direi di cominciare con i ticket. Spero veramente l'unica arma che effettivamente cerco è la X di terra tendenzialmente, Gao non lo sto cercando e ho paura di dire questo perché ogni volta che non cerco un personaggio mi esce. Però effettivamente Gao al momento non lo sto cercando. Vorrei trovare la X di terra proprio per una questione di completezza dato che comunque terra ce l'ho già completa, 15-35 artefatti e portata al 70, quindi per renderla magari un pochino più... ecco, vediamo se possiamo subito smettere da questo banner, ti prego... no... questa dovrebbe essere la 15 di selfie che sinceramente non mi interessa perché sapete benissimo che selfie ce l'ho completa, quindi va bene così. Ripeto, veramente l'unica arma che cerco da questo banner è probabilmente la X di terra. Se dovessi veramente trovarla sarebbe un colpaccio e soprattutto utilizzerei altri ticket su Irvine, assolutamente utilizzerei i ticket su Irvine. Gemme non ne voglio spendere, assolutamente. Sto conservando in maniera quasi compulsiva proprio perché voglio sapere non solo che cosa ci sarà un mese prossimo ma soprattutto ciò che ci sarà in futuro perché ci sono tante notizie che stanno girando e quindi non sapendo effettivamente quale ascoltare meglio prevenire che curare, come si suol dire. Quindi preferisco aspettare, preferisco vedere... Uh, attenzione, una orb dorata direttamente. Ho visto anche un connecting che mi ha spaventato perché... oh, va bene, ok, la 15 di terra. Vabbè, power stone. Power stone, power stone, va benissimo, va benissimo. Attenzione, altra orb grigia. Vediamo un pochino. 2 di fila? 2 di fila? Oh, eh, 2 di fila, 2 15 di fila però... eh, va bene armi di terra però avrei preferito qualcos'altro. Vabbè, niente, andiamo avanti. Non stanno andando male questi ticket, comunque 3 power stone su quasi 40 ticket. Direi che la media mi sorride. direi che la media mi sorride. Fatemi sapere ovviamente se anche voi pullerete, perché... anche per un confronto, no? Per sapere magari se anche voi pullerete, se state cercando gao, se state cercando terra. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa... che cosa state facendo per questo evento. O se addirittura conservate anche i ticket, non spendete neanche i ticket magari per un personaggio futuro che vi possa interessare di più, ecco. Allora, ultimi 10, dopodiché mi devo farmare quelli della co-op. non so effettivamente in che ordine farò uscire questi video, perché... eh, sto facendo... cioè, praticamente oggi ho registrato Cosmos, Chaos, ho registrato tutto, e adesso con calma mi stavo registrando questo piccolo video pull con i ticket. Però vediamo quando usciranno... come... come... come ordine. Il primo sicuramente sarà la Cosmos, perché tanto... è un evento abbastanza semplice, ormai le Cosmos per... per il Jap rappresentano una grossa difficoltà, quindi magari faccio uscire quella solo per... così, per contorno, e poi piano piano faccio uscire anche le altre robe. Allora, ultimo ticket. Un connecting bello lungo, vediamo, lasciamo andare. Oh, vabbè. Mi stavo un attimo spaventando, però va bene così, ok. Mi vado a fare i ticket delle co-op, e poi successivamente ci rivediamo quando avrò terminato anche di formare quelli, e ci pulliamo anche quelli, nella speranza, appunto, di trovare questa X di terra. Quindi, ovviamente per voi sarà un attimo, ci vediamo tra poco. Bene, ragazzi, ho formato i ticket della co-op, come potete vedere altri 21 ticket per sperare, ovviamente, di ottenere la X di terra. Qualora, ripeto, dovesse ottenere la X di terra, i restanti ticket li butterò probabilmente su Irvine, cercando qualche arma sua. Quindi, ricominciamo questi altri 20 ticket. Vediamo se magari riesco a chiudere terra, visto che ce l'ho completa, fondamentalmente ce l'ho completa, però mi manca la X. Quindi, non l'ho presa ai tempi, quando ovviamente c'erano i token, quelli dorati, perché ho preferito prendere inizialmente l'arma di Wall, che addirittura mi mancava, quindi la X di Wall, che è stata, penso, uno degli investimenti migliori, è ancora 15 di selfie, è stato uno degli investimenti migliori che abbia mai fatto. E poi, con i secondi token, ho preso quella di Stola. Ancora con selfie basta. Quindi, diciamo che i token me li sono giocati su personaggi che sicuramente, a mio avviso, meritano di più. Però adesso, se dovessi effettivamente trovare terra, ma una questione proprio di completezza sarebbe ben gradita, però a quanto pare, mi sa che ci possiamo un attimo rasserenare e lasciar perdere. Tra l'altro adesso ho le risorse necessarie per poter maxare un altro dei miei personaggi. Adesso devo semplicemente decidere chi. Tra Golbez, Eith, ci sarebbe anche Rosa, che portata a viola diventa molto, molto forte, viene utilizzata in tantissime caos, quindi potrebbe essere un investimento. Ultimo ticket. Niente ragazzi, è andata male, è andata male. Ne soffro, dire il vero no. Mi va bene così, alla fine ci può stare. Peccato, volevo terra, ripeto, soltanto per una questione di completezza, però a quanto pare non avrò la possibilità di sfruttare terra con l'ex, anche di provarla così magari per conto mio. Va bene ragazzi, detto questo, spero che voi possiate essere più fortunati di me. Come al solito vi aspetto sul mio canale, per le prossime live, per i prossimi video. Fatemi sapere voi cosa avete ottenuto, fatemi sapere se avete pullato, e ovviamente noi al solito ci vediamo alla prossima.